L'assistenza dal bambino all'anziano, un tema importante in una società sempre più attenta ai diritti dei più deboli. È stato l'argomento del convegno organizzato in fondazione dall'Associazione Padre Antonino Magnani. Per sensibilizzare sulla necessità di un'assistenza che sia non solo quella dei farmaci, ma anche un'assistenza di umanità, di presenza. Dallo psicologo al regista, dallo psicoterapeuta al giornalista passando per il neurologo. Un insieme di relatori importante per affrontare e spiegare ruoli e metodi per creare situazioni in cui due categorie, anagraficamente così distanti, possano relazionarsi e sostenersi mutualmente. Sono vicine queste due generazioni agli antipodi fin quando i nonni sono performanti, diciamo. Sono perfetti, sono in forma, sono i nonni che non sono vecchi. I bambini conoscono i nonni, li conoscono come delle persone che sono ancora in grado di fare tutto. Quando i vecchi mostrano i segni della vecchiaia, ecco che le cose cominciano a essere più difficili. E forse noi adulti, i genitori per esempio, tendiamo a allontanare i nipoti perché non vedano gli anziani fragili, gli anziani fragili perché magari sono visti come un elemento che può essere anche pericoloso per i bambini, oppure comunque non una bella vista. E invece sono due generazioni che si parlano, parlano spesso lo stesso linguaggio, sopra di noi, sopra noi adulti, e stanno a guardarsi, assistersi. L'assistenza è innanzitutto come un guardarsi, io credo che questo sia importante. E sempre di più le esperienze, per esempio, su anziani con dei disturbi cognitivi, di neurodegenerazione, dimostrano quanto sia utile la presenza dei bambini. Perché i bambini non si fermano alle difficoltà, spesso sono difficoltà che loro condividono e quindi creano un legame che va oltre la funzionalità. Una sorta di dare avere, prima i nonni che assistono i nipotini e poi questi ultimi, che prima ancora di essere adulti e in grado di ricambiare l'aiuto fisico, donano inconsapevolmente sostegno con la loro presenza. E poi c'è il tema della fantasia che è cruciale. La mia storia preferita, che riguarda nonni e bambini, è quella di una persona, di un nonno con una malattia di Alzheimer, quindi un nonno che dimentica le cose, che si è dimenticato di essere nonno di questo bambino. Allora questo bambino cosa fa? Inventa un gioco e dice, nonno, oppure giochiamo a fare sì che tu sei il nonno e io il nipote. E quest'uomo che non sa più di essere nonno, dice, bel gioco. E divento nonno, sono nonno, non lo so più, e divento nonno perché tu mi fai giocare al nonno. È fantastica questa cosa, è la fantasia dei bambini che riescono a coinvolgere le persone anziane quando gli adulti, noi adulti, non riusciamo a farlo, lo facciamo in una maniera che è assistenziale nell'accezione deteriore del termine.